Si chiamava Céline Ben David Nagar, era una 32enne madre di famiglia di una bambina di soli 6 mesi, purtroppo però è morta e è stata brutalmente ammassata. Da chi vi starete chiedendo da Hamas il gruppo di stampo politico, veritamente politico, mi permetto di dire che per l'appunto ha ucciso la donna in questione. In pratica l'auto dove viaggiava è stata letteralmente crillevellata di colpi da parte di Hamas, in questa guerra che continua a esserci tra Israele e Hamas e l'ultima telefonata della famiglia era di pochi giorni prima dove diceva letteralmente, finalmente vengono a salvarci. Nessuna salvezza, nessuna via di fuga, nessun tipo di salvezza per la donna o per la famiglia, il 7 ottobre era scoparsa ma adesso non c'è più. Céline Ben David Nagar, che tu possa riposare in pace, Amen. Grazie a tutti.